Il Sporting Veneto, in collaborazione con l'administrazione provinciale, invita gli importini tutti a rispetto e alla tutela dell'ambiente, e in particolare all'utilizzo della raccolta differenziata. Il Rione Ferrovia ha già organizzato Furman per la trasferta di domenica prossima di Perno, mentre il Club Rione di Perno sta organizzando Furman per la stessa trasferta. Per informazioni potete rivolgervi allo stesso fletto nella persona di Ennio Calabrese. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti alla quattordicentina giornata d'andata del girone B della Serie C1. Prima di leggervi le informazioni vi leggiamo le altre partite di programma. Giulianova 13, chiudono la classifica, Atletico Catania e Pidevi Sandia con 8 punti. Vi leggiamo le informazioni in campo. Nocerina, numero 1, Grisciolo, numero 2, D'Alterio, numero 3, Pierotti, numero 4, Zuffini, numero 5, Langella, numero 6, Giardiello, numero 7, Nocera, numero 8, Giardino, numero 9, Dillento, numero 10, Coppola, numero 11, Barbera, in panchina, Lorenzini, Arco, Alfano, Dillento, Esposito, Aurino e Carneali, allenatore Dilla. Quattro, Testimone, numero 5, Palafronte, numero 6, Mariani, numero 7, Calcagno, numero 8, Guisi, numero 9, Bonfiglio, numero 10, Piemonte, numero 11, Aruta, in panchina, De Vito, Tommaso Dei, Caterina. Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.